Verso la conclusione dell'estate 2015, primo consuntivo della stagione turistica e delle presenze, l'intervista al Presidente Feder Alberghi, Francesco Piccarella. Il prossimo 21 settembre, la conclusione dell'estate, un primo bilancio consuntivo per quanto riguarda le presenze turistiche ad Agrigento e non solo. Il Presidente di Feder Alberghi Agrigento, Francesco Piccarella. Sì, diciamo ci appressiamo a concludere la stagione estiva, le aziende turistico-ricettive hanno vissuto dei momenti di alti e bassi. Le presenze bene o male sono rimaste sempre quelle, purtroppo è normale ed è fisiologico che siano nate tantissime altre strutture e che quindi questa torta, diciamo, venga spezzettata in tantissime altre parti. Questo naturalmente le strutture turistiche alberghiere ne soffrono di più perché hanno naturalmente maggiori costi, però, insomma, in definitiva ci riteniamo quantomeno abbastanza soddisfatti per quello che è stata l'estate. Ci apprestiamo, insomma, a vivere un inverno sicuramente difficile dove, naturalmente, speriamo che chi di competenza riesca a dare qualche idea e qualche soluzione anche con la nostra collaborazione per poter destagionalizzare le presenze turistiche.